Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Stefano D. Che mi chiede di parlare del film di Nanni Loi, Sistemo l'America e Torno, con un grandissimo Paolo Villaggio, in un ruolo più serio del solito, nonostante poi chiaramente il film sia anche una commedia, ma una commedia drammatica veramente, una cosa particolare di Nanni Loi, del 1974, sulle sceneggiatura di Piero Benvenuti, Leo De Bernardi e lo stesso Nanni Loi, un film particolare appunto sull'America del periodo. Nel film si narra la storia di Giovanni Bonfiglio, interpretata appunto dal nostro buon Paolo Villaggio, che è in America per lavorare, insomma, per un riccone, e lui è un comandatore che l'hanno mandato lì, insomma, lavora per decidere questo qui che vuole, un giocatore Ferguson, per questo riccone averlo nella sua squadra di basket, e quindi chiamo questo buon figlio che sta lavorando in America per lui, lo manda a cercare questo Ferguson, lui lo rintraccia, gli chiede di fare l'affare, questo ragazzone di colore accetta, però prima devono fare delle cose, lui ha detto che deve fare un viaggio, e di lì poi porto tutto il viaggio per il nostro proprio villaggio, insieme appunto a questo Ferguson, Sterling Stantz-Jacquet, tra l'altro lo interpreta benissimo, e inizia a fare un viaggio attraverso l'America e scopriranno praticamente tutti i mali che ci sono, soprattutto il nostro Paolo Villaggio Bonfiglio. Ha un film sicuramente non riuscitissimo, che però fa una fotografia dell'America dell'epoca veramente in maniera molto interessante. Prima di tutto perché gli attori sono bravi, Nanni Loi sa tenere in macchina presa, sicuramente un regista di mestiere, la sceneggiatura è buona, colpisce meno a livello di tempi, ecco, forse il montaggio, un certo tipo di fotografia poteva essere ancora più curata, nonostante sia tecnicamente ben fatta, ma forse artisticamente lascia un po' il tempo che trova, il ritmo poteva essere più alto. Però Porca Puntana è un film che ci fa veramente vedere l'America di quel tipo, in quel senso, quando lui va a Detroit scopre che fa parte delle pantare nere, poi tutta la parte invece è in mezzo agli hippie, che sono rinfiniti dentro a questi riconi, praticamente i hippie che ribottano dalla mattina alla sera. Poi vanno a New Orleans a cercare i genitori di Ferguson, in tutto questo viaggio c'è la crescita di un Paolo Villaggio che scopre un'America che non aveva mai visto, non pensava di vedere, un'America razzista, fatta di poliziotti che distruggono mostre a Detroit solo perché di neri, madri bianche che tengono lontani, figli di colore quando escono da scuola, una situazione che sembra veramente deflagrare, che porterà anche a un leticio e poi a un finale tragico. Per un film sicuramente non riuscito al 100%, nemmeno invecchiato benissimo, ma sicuramente è un cult e sicuramente è un film che comunque faceva una fotografia di un certo tipo di America che noi non volevamo vedere in quegli anni e che non veniva sicuramente venduta. Ha sicuramente messo subito di fronte allo spettatore il fatto che Nani Loi non decida di mai scendere dal caro del film sociale e politico, nonostante abbia villaggio, nonostante tutto, nonostante ci sia dei parti comiche, però il film tende sempre a non mettere mai da parte questa cosa sociopolitica per il racconto, che in realtà è questo. Il racconto del viaggio on the road e tutto il resto sembra quasi un megafim per raccontarci, come ho detto appunto all'America, tutti i suoi problemi soprattutto razziali di quel periodo dove sembrava si dovesse muovere tanto, dove invece come in quella scena fantastica al palazzetto lo dicano voi ci amate solo quando siamo a gioia a fare gli sport, poi se no siamo semplicemente dei neri del cazzo. E quella cosa è fantastica. Ci sono delle scene che sono ancora splendide e altre che fanno veramente annoiare. Quindi un film via di mezzo, visto l'epoca probabilmente aveva ancora più effetto, è un po' invecchiato, come ho detto così e così, però sicuramente è un film che merita un'occasione, non è un capolavoro, è un cult, quello di sicuro, però è un film sbagliato, a tratti un po' retorico, a tratti un po' così, a tratti anche un pochino buttato a caso, ma che comunque per le parti migliori, ripeto, fa una fotografia di un certo tipo di America, ma anche di un certo tipo di mondo razzista del periodo, che secondo me non è poi cambiato così tanto, perché questa inclusività viene messa più che altro per figura, più che in realtà dentro il cuore il cambiamento vero di una società, quella dell'umanità appunto, che sembra andare a regredire invece che a progredire. Detto questo, per me questo sistema all'America e Torno è uno dei classici film da bimbetto che vedevo mille volte, è nato, l'hanno fatto presente un anno dopo e nasce il suo, è uno dei classici film, insomma, che fanno formazione, che sono invecchiati così e così, che fanno un buon attacco, ma che alla base, insomma, hanno un cinema che è discreto, ma che poteva essere davvero di più. Comunque rimane un film assolutamente, secondo me, importantissimo. Il link è qua sotto, guardate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, puzza anche in super grazie, tutto ve lo fa contento e frusciante, e poi, ripeto, se amate il cinema italiano e volete un calda assoluto, si stella in America e Torno, lo è, anche perché ha un po' lo villaggio, veramente bomba. Il link, ripeto, è qua sotto. Il link, ripeto, è qua sotto.